Lo studio si concentra sull'analisi degli atteggiamenti nei confronti dei ruoli di genere, in particolare sulla legittimazione del ruolo femminile nella sfera pubblica. L'idea di fare questo studio è nata da una semplice domanda, cioè perché in alcuni paesi europei questa legittimazione è più facile rispetto ad altri paesi, come per esempio l'Italia. Dall'analisi dei dati, basata soprattutto sui dati dell'European Value Study, di cui l'Università Cattolica è il principal investigator per l'Italia, emerge un quadro abbastanza singolare che va anche a conferma di studi precedenti. Infatti, al di là di dati e elementi di carattere individuale, come può essere il livello di istruzione, il fatto di essere donna, o comunque anche elementi del background familiare, ci sono alcuni elementi contestuali che emergono in modo marcato. Infatti, le istituzioni concorrono in modo forte a legittimare il ruolo femminile nella sfera pubblica. Faccio un esempio. Se c'è una domanda che viene utilizzata per analizzare questi atteggiamenti, è se il fatto che la donna i lavori crei un problema per la famiglia o per i figli. Chiaro che se uno si trova in un paese dove le politiche familiari sono realmente politiche per la famiglia e quindi sostengono entrambi i genitori nella loro dimensione sia lavorativa che dei compiti di cura, uno probabilmente si sentirà portato a dire che tutto sommato non è un grandissimo problema. Chiaro invece che se si trova in un paese come l'Italia dove questi elementi di supporto non ci sono, il fatto che la donna i lavori diventa veramente un problema. Quindi non è che gli italiani e le italiane sono di default contro la parità di genere o sono più tradizionalisti, ma questi loro valori vengono limitati dal contesto istituzionale, strutturale che impedisce poi alle persone di mettere in pratica, di dar corpo i propri valori di parità.